Colpo di ritorno. La polemica ha sempre creato il mio successo. Ricordo che un glorioso giornalista mi ha definito bravo e documentato. Che tempesta di argomenti esce dalla mia mente quando crocifigo un politico o un altro opinionista. Se in televisione raramente sono messo in difficoltà da chi attacco, grido al mio talento soccorrimi e, superbo della sua bravura, il mio talento alla fine vince e fa tacere. Da un po' di tempo però mi sento fiacco, poco motivato e la serenità che alitava sul mio viso ogni volta che massacravo qualcuno è diventata una piega amara. Perché? Commento. Perché le forme pensiero o stili dei tanti che hai maltrattato ti consumano con il colpo di ritorno.